Come cristiani noi dobbiamo smettere di ricordarci che non siamo soltanto cristiani del Venerdì Santo, ma siamo cristiani pasquali, e cioè che siamo figli di qualcuno che ha vinto, e proprio perché ha vinto ci dà la forza di affrontare anche i fallimenti delle nostre piccole battaglie. Un profondo momento di riflessione sul senso di credere, sulla fede e l'amore verso Dio, il prossimo e se stessi, e poi ancora l'importanza dei legami e la necessità di riscoprirli e di dare un significato ancora più intenso alle cose che viviamo. Sono stati questi alcuni dei principali temi toccati da Don Luigi Maria Picocco, teologo e scrittore, sacerdote della Diocesi di L'Aquila, originario di Mesagne, che è intervenuto all'incontro che si è svolto al centro Le Sorgenti dal titolo Il senso di credere in questo nostro presente. La maggior parte della gente è qui perché sente un desiderio profondo di riscoprire una dimensione interiore della vita che ci faccia sperimentare di nuovo un significato molto più grande delle cose che noi normalmente viviamo. Chi vive l'esperienza di fede l'ha incontrata nella persona di Gesù, ma anche chi non ha il dono della fede sperimenta questo desiderio e questa mancanza. È bello che oggi pomeriggio questi due popoli si incontrano nello stesso desiderio, nelle stesse domande e che le stesse parole possono indicare strade che ci accomunano e che ci portano ad umanizzare la nostra esperienza. Don Luigi ha poi rivolto un particolare messaggio ai giovani che in questi tempi, sempre più spesso, fanno uso di droghe o alcol per divertirsi o si rendono protagonisti di atti di violenza. A volte la violenza e a volte le dipendenze sono un grido di infelicità. Sarebbe bello dire a questi ragazzi che la felicità esiste, ma che esistono modi sani per poter essere felici e che gli adulti devono imparare a perdere tempo con loro per indicare strade che possano condurre a una vera felicità.